Bella a tutti ragazzi qui a Dume Young e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo della partita, della prima partita dell'Italia Under 21 negli europei contro la Danimarca Under 21 gli azzurrini che sono dati per strafavoriti soprattutto dalle quote partiamo subito col dire che però l'Italia negli ultimi tre precedenti ha fatto due pareggi e una sconfitta anche se erano solo delle amichevoli infatti nel 2010 la partita si è conclusa con il risultato di 2 a 2 nel 2014 ha vinto la Danimarca per una rete a zero e nel 2016 la partita si è chiusa a porte inviolate perché non è stato segnato alcun gol l'Italia dovrebbe vincere e deve vincere se vuole davvero ottenere le semifinali perché sono tre gironi da quattro squadre, si qualifica la prima di ogni girone e la migliore seconda di questi tre gironi e si andano a fare direttamente le semifinali Italia che è nel girone con Danimarca ovviamente che se vogliamo è anche la più debole insieme alla Repubblica cieca e poi c'è la Germania contro cui l'Italia dovrà giocare l'ultima partita di questo girone secondo me potete giocare un over 1.5 perché l'Italia è costretta a vincere perché per fare magari anche come migliore seconda c'è bisogno della differenza reti ma anche dei gol fatti quindi l'over 1.5 forse anche il no gol perché l'Italia ha comunque importato Narum ed ha una grande difesa capitanata da Rugani quindi giocherei addirittura anche l'under 4.5 perché l'Italia non riuscirà comunque a segnare col tigol comunque la Danimarca dovrà provare a vincere anche se non sarà ovviamente facile vi ricordo che usciranno altri video sull'Italia Under 21 quando giocherà contro la Repubblica cieca e la Germania e se andrà avanti anche sulle semifinali e forse la finale questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi mettete like bella